Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Cazzeggio su Fortnite. Oggi siamo con il lupo solitario, con l'arma chiamata il lancio a sborra. No. Ah, guarda che te li faccio vedere, fermo. Guarda cosa ho in mano. Che schifo. Ok, adesso la proveremo. Ah, prendi una sola sborra e basta, e combattiamo solamente con uno di quelli. Ah, e non ti ha aggiunto le... Sai che sono le macchine di Rocket League che vanno alla velocità della luce? Ah, sì, ma dove le hai messo? Sì, sono figli, e io sono spawnato vicino a uno. Eh, tanti, infatti, ti offro un passaggio. Ah, comunque sto intendo perché le Mario Bombe si sono ancora, non si sono ancora estinte. Porca merda se si sono ancora, ne sta... Allora, qui bisogna fare attenzione a non toccarle. Porca troia! Esplosa la Mario Bombe ma non mi è successo niente. Vabbè. Ok, sborra. Vieni, vieni. Ah, le ho viste le macchine. Prego, è da guare, è da sali, sali, sali. Ti faccio vedere un giuletto a massima velocità. Sali. Ma non mi sono salire. E non posso. Come no. Ma hai visto? Che cosa? Investimi. Vai, va. Porca, scusa, scusa, scendi un attimo. Scendi, scendi. Guarda. Stai fermo. Guarda che succede se ti pio sotto. Ah. No, perché, ha visto? Eh. Ma perché fa quell'animazione baggata? Boh. Non lo so, un po' rosa. Porca merda, sono spawnato davanti a una Mario Bombe. Che poi alla fine il meme della Mario Bombe non morirà mai. È già morto. Senti, vieni, vieni. Sì, vabbè, ma è sempre bello dire Mario Bombe. Ah, è vero, ma quando stavano le Mario Bombe noi non... Non registrava mancosa. Porco Dio, sta radio di della minchia sparata in culo. Sì, sali, sali. Ah, no. È un po' so. Eh, guardami, guardami. Guardami, guardami. Allora, vai. Allora, vai. No, ti sborro, ok? Cos'è quel... Mmmmm. Mmmmm. Provei, piccola. Porca! Sì! No! Attaccato! Ma hai visto quanto è potente st'arma? Oh! Hai visto? È fighissimo st'arma. Dove cazzo sei? No, la sborra non arriva fino a lì. Anzi. Ok, veni in casa. Veni in casa. Madonna, ti sborro sull'aereo! Bum, bum, bum! Dopo, andiamo su... In giustizia. Porca! No, ti prego, che ti devo far vedere una roba che ho scoperto. È tolto. È tolto. No! Porca! Scappo! No! me la fumo perfetta di occo ma ma attraversa le strutture come l'attraverso ma quanto è grande l'area dell'esplosione se io sparo tipo ma ci ho fatto otto ho rotto è arrivato lo sbocco del nonno no 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 lo sbocco del nonno sta arrivando lo sboccazzo no minchia ti ho inondato di sbocco no di sbobba porco il dio vabbè io mi nascondo dentro la casa non entrare porca merda stava una mario bomba ma adesso sono sulle pianure oh guarda in alto si è caduto ma esce lupo solitario ha sbagliato atterraggio vai la sborra no 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 facciamo solo sborrò aspetta che mi devo prendere una cosa cosa la rosa si vai prenditelo no che c'è non arriva arriva fino a lì io sono una serie superiore donna se appena riesco a sborrarti addosso senza non morirò mai quanto abitai? 400 e vabbè 400 te li faccio oggi non morirò mai con un colpo non mi è cavato un cazzo porco due sì vabbè ma mi sei esploso davanti ma dove sono le cure? non ci sono cioè ci sono ma non te lo dirò ah ho scoperto il tuo peggior nemico l'aereo come fai ad affrontarmi in volo? stavo scherzando diokane mi sono incastrato no sono stuck si vai vai si stuck intanto io rigenero la vita come rigenero madonna chi entro no 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 il sborro sul tank non lo so MAI! MAI! BU 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 BU! Attenti io mi faccio tutto il setup di sborra Ok E adesso ragazzi inizia il porco Oh perchè sono arrivato a livello 104? Oh si e adesso si ragiona Porca madonna Due cazzo sei Ah ma ho le cure Aspè non c'ho armi se mi ammazzi non c'ho armi se il bambino ci c'ho Ah guarda che il bambino ci c'ho Non ti ho mica ammazzato Eh ma ci hai provato Aspè voglio provare a rompere e poi... E adesso cosa farai? Il borrero in bocca Beh muori! Quanta vita hai? 32 No vaffacula Noi non ti ho fatto l'atta... Madonna ma ti entro di questa madre Madonna lo vedi gli aerei russi li vedi gli aerei russi Porco dio Madonna ti ho reso una palla Ci ho fatto diventare una palla Ok te la lascio la spalla non me la prendi io No no intanto io devo attivare il mio superpotere Senti non mi prendo il mio stronzone di carro armando Vai armando Ammintiamoli nel vango Oh facciamo world of time su... 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 Su porti No... Prenditi anche tu in tank che combattiamo soltanto con i toni Madonna va a roba su cosa Ciao raga... Porca ma... Io sono un tank Porca troia Porca troia Porco dio erai mai non mi prenderai mai madonna ti entro ne sei sicuro cosa ho il lancio a sbora è letale anale pistola melma esplosiva ma che melma è cos'è quel ciccio ma è da malamena aspetta che devo attivare il mio superpotere senti intanto mi vado a prendere il caro armando tu vai a recuperare la squadra no non è quello il mio superpotere no mi sa che non c'è più carlo armando non c'è più carlo armando ehi armando pompa di più ah no quello no era fernando vabbè anzi io mi sto fisso sulla mia torretta e retta e passerezza oh oh andrea mettiamo in tom mettiamo in tom eh mettiamo in tom dio tom oh ecco il mio superpotere che merda apocalipsa oltre al secondo superpotere ovvero morire esatto esatto oltre al mio secondo superpotere si ma intanto che tiravi fuori il secondo superpotere è già diventato una pala di sbord madonna madonna guarda come zampetta oh oh si vai nel cuoco non me l'hai notato porca merda oh basta basta così non si può giocare ma prenderò dei seri serissimi provvedimenti che cazzo che cazzo sei sta arrivando sta arrivando Arturo con il suo fucile che spara la sborra duro duro no dove cazzo sei porca ehi aspetta è arrivato ma io sono immortale oh si come sei immortale mucamuuu mucamuuu si la sprosna che cazzo intelligente ma non riesco a beccarti sei troppo veloce è quello il mio potere porca oddio si la mario bomb a ragazzi voglio specificare che questa mappa che il cazzo l'ho creata moltissimo tempo fa solo che quando avevo queste mappe di fornite non registravo ancora perchè non avevo ancora aperto il canale anale non ci frega un cazzo a nessuno quindi se magari volete giocare qualche mappa che ho fatto magari 3.000 anni fa quando stavano ancora dinosauri potete anche dirmelo dirmelo e tu dove cazzo stai? e tu dove cazzo stai? tu dove cazzo stai? il culo di gelo eeeeeeeh madonna che merda ma ti ha buttato la sbocca dove cazzo sei? sotto la mappa come sotto la mappa ma ammazzati in qualche modo aspetta io faccio uno scream vediamo come cazzo fai ad essere sotto la mappa? aspetta ti videochiamo no no che poi parte la suoneria e mi suoni ecco che schifo hai visto? si comunque ti ricordo oh oh cazzo mi sono sbagliato mi son ribaggato oh è a massa tizio cazzo no 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 mi voglio sbagliare a mano come cazzo fai a sbagliarti a mano? aspetta guarda sono qua a mucca dove sei? ah ecco ti ho visto però se ritorno normale vado sotto ah quindi devi affrontarmi come una mucca vieni qua bel buccone che cazzo è successo? ma è una roba rotta perchè io posso teletrasportarmi praticamente in qualsiasi punto della mappa eh? hai presente hai presente la casa? eh guarda adesso io sarò al triceratopo ma porca mese io ho visto la padella posso teletrasportarmi? ok vai affrontami adesso mi tento aspetterò ma te porca troia teletrasporto sbagliato dentro dei cazzi si ma se io ti rompo la palla tu respawni giù cioè ti vai giù si allora è impossibile ammazzarti anzi no perchè se io ti attacco la sborra anche se tu vai giù se l'avrei ancora attaccato guarda sono qua qua dove? affrontami se c'hai coglioni come faccio ad affrontare una mucca? via nooo aaaaaaah bu bu vai il tinondo di fuoco vai nonno dammi il catarro la potenza del catarro del mondo la potenza del catarro del mondo andiamo su ingiustizia no adesso io voglio farti ma dove l'hai preso lo sbocco ah alla vending machine che sta dove stanno tutte le ceste quella normale aspetta ma che lo metto qua aspetta ma che lo metto qua ma avevo fatto tipo le armi della prima e della seconda ma non c'è un cazzo oh la vending machine la piccone sono i cazzi non c'è un cazzo e sono di nuovo baggato ah sentite le troppo io le sborre che ormai mi sto annoiando a venirti addosso almeno voglio che tu vieni conto cioè voglio che tu vieni aspetta un attimo ti devo venire in conto ah porca merda ma non si vede un cazzo copre tutta la visuale lo sbocco ma no cosa ma no non me lo dire ma porca merda ahahah ahahah perchè c'è il cazzo 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 cos'è quel muccozzo lì in fondo io me ne sto dentro le trinche oh ma c'è lo sbocco che salta e li devo rigenerare guarda c'è lo sbocco che salta guarda 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 anzi aspetta lo faccio rimbalzare all'infinito voglio farlo rimbalzare all'infinito ma dov'è lo sbocco che salta e vai dove stava il trampolino etta no lo faccio saltare etta no però voglio farlo voglio creare un loop in finito ecco forse è così ah no ma esplode dopo volevo che saltava all'infinito in questione del saltato che salta proprio io madonna non mi venire dai non è uscita non mi venire aaaaaaah non mi venire ehi madonna te lo attacco duro no oh il culo ad arturo a chi scusa ad arturo a chi? ma poi io adesso ma che ci ripenso oh andrea ma che ci ripenso sai quante robe belle abbiamo fatto prima che io aprire il canale che non avevo registrato su fortnite no aspetta che voglio prendere un'altra ma un'altra ma nonna LOUUH già torna influenced era tutto sbordoso anzi aspè anche io mi devo prendere un'arma ap Cinco e Modo Bugh Hai presente la flergan? Ma non c'è più il bug che dopo se i colpi scompare, no? I colpi sono veramente infiniti Perché prima, perché prima c'era scritto col proiettili infiniti della flergan, però dopo 5 scompariva la flergan Quindi adesso faremo lo stesso con questo le rest Sono sotto la mappa E adesso sono dietro di te No, sono sotto la mappa Ma come fai ad andare sotto la mappa? Vorresti saperlo Vorresti saperlo No, ma non voglio andarci io Voglio sapere in che modo Te ne traspluggia diventando mucca o quando non sei mucca Vorresti O a cazzo lo fai Guarda adesso me ne sono scappato Me ne so tipo taffanculo, mi sto curando Ma come curando, perché devi curarti? E certo Sono di nuovo sopra Ma che cure hai? Che cure hai? Ehm Lo spray Ehm Il succo succo E no E no Allora cosa mi fa Allora so Dona ma ti architetto una trappola Così non potrei ritorno Che cazzo era quel Che cazzo era questo Perché c'è un tank volante? Perché ho 37.000 di XP? Perché c'ho 37.000 di XP? Ma io posso vedere dove sei E benissimo Sei morto adesso? Ho visto Grazie alla merca Però le Mario Bombe ma sono buggate Esplodono una volta Non ti fanno danno Esplodono due volte Ti fanno danno Ok ti vedo con l'aereo Ma perché l'aereo non mi fa più volare? Proprio stai su War Robot Proprio stai su War Robot E vedi uno scopo nemico Ti sei teletrasporta di Oh ti vedo Stai fermo lì? Buongiorno Vai dietro Sì no Non me ne è staccata Ok Si è staccata Senti stai zitto Non è quello che Ok si è staccata La nata Vai adesso ti entro in casa 10 10 dentro la trancea No 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 tu non hai capito Io mi teletrasporto proprio Nella trancea Sono dentro Non ci credo Aspetta Dai Sì Non è la Mi intendo Nella trancea Ovest Non in quella Oh cazzo Sì Bucca 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 Ok Ok Nemico Individuato No La nata Carica No No Non vedo Tu Cavi Sono sotto Ma va Ma va Ma va Io ho ancora La fantasia di vita Ma è vero Qua c'è campfire Sì ma ste palle Sempre a rose Sempre a rispondere Ma come hai fatto a non morire Ma mi sa che se ti ammazzo prima la sborra non esplode Aspetta Aspetta Mi sa che se tu mi ha Se tu mi attacchi tutto lo sbocco e io muo e tu muori La sbocca Lo sbocco non esplode più Ma ho capito un cazzo Ma in effetti anche io pensavo di morire Ma vabbè che sono ancora mio Madonna ste Ehi Cos'è? Cos'è? Madonna Elicotter 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 Che cazzo è? Madonna Viece Madonna Vieni Ricarica 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 Vai giù Ok Vai Easy Ma adesso Adesso vieni Vieni No io posso stare anche giù No io posso stare anche giù Guarda Madonna No sono giù Sei giù? Aspetta ci vengo anch'io Dove sei? In the water E io non ti vedo Aiuto a spada La water A ti vedo Spara ancora Di nuovo spara in Africa Mi cazzo sai Continuando nelle palle Anche ho visto ho visto Spara spara continua a sparare A tu ho visto ho visto Perché prima non mi avevi visto Ma è qui Ma ti sento notare Io ti sento notare E sto qua davanti a te Eh ma davanti a me c'è la montagna Guarda Oh ti vedo Non sta contro la montagna Vedo le tue braccile nere Da negro Porco due Dai zitto Andiamo su ingiustizia No Dai ti devo far vedere una cosa finissima Loro No dai dai O i zio Ma Ma io sto negando Goto Ma Si può negare Si Se sei sott'acqua tanto tempo Anni Ma voglio vedere il messaggio Porco due Hai fatto il botto Entra un attimo Perché hai fatto il botto Non si no Io voglio Quello Quello Non quello Ma è tutto aperto Quale c'è Ma dove non c'è la flergan quella bella Ma dove Dentro a robe Nella francea Ma sanno a fianco No Intendo le flergan Quelle belle Quelle colorate Quelle pochi Dardiviso Ma Porco di Ma perché le flergan Non fanno più la localizzazione Non va più la localizzazione Guarda vieni Porca madonna Guarda Prendi Vieni E affetta È un po' difficile Come è difficile Venire Si Vieni Guarda Prendi la flergan E spara In aria In aria Guarda Ha localizzato Si Come si Ok Porco di No Porco Addio Porco dio E me Tipo Via Anche Facciamo una roba Ah no Ma sto termine Adesso Andiamo su In giustizia No Sper Voglio fare una roba Voglio fare una roba Dai Dai Oh Zio vai Beh dai Ti prego Aspè Dove Ho metto un timer 5 minuti Ok Tanto il video Durerà meno di Mezz'ora Non si Tre Minuti Mi è donato Un'abbia Pazza Sgrava Tre Minuti Mi creò La sborra Più potente Che possa mai Oggi Tre Minuti Si Bisurdi Tutto Hai capito? No Tre Minuti Un Ti Bisurdi Si Ok Senti Oh lo senti Cosa? Tic Si Senti Tic Ettore Si Eh E il Tire Porca Madonna Hai tre Minuti Di tempo Ok vai Madonna Adesso Devi nasconderti Perché ti entro Nel Water Ti Minca Ma posso andare Anche sotto Zero In che senso C'è sotto la mappa Boh Se vanno sotto la mappa Non mi prendi mai Eh ma devi salire Ovviamente Non devi fare il vigliacone Brutto ciccione E io farò il vigliacone Bello succo Norca Ok Sto ticchettare Mi ha Tic Tac E poi Arriba Fuuuck Ok Adesso vado nel mio cavo magico Qua dietro Oh che cavo magico Eccolo Eccolo E adesso ragazzi Qui entra il gioco Lo sborroco Che cazzo E qui ragazzi E qui ragazzi Adesso ragazzi Entra il gioco Porco Foco Sparami No ma sono aggacciato Aspetta un attimo Ma se lo salgo sul tente Perché me combatto 104 Ha tolto il rischio Oh andrei Ma perché se muoio Mi esce E mi combatto 104 No non ho più il mio cazzo Vado a recuperarlo Nel mio cavo magico Porco dio Ma di macchina Di rocket league Quante ne mi esse Mi sa Uno spawner E basta Ma le spawna E certo E certo Dioberto E adesso ragazzi Inizia la festa Adesso ragazzi Inizia la festa Ragazzi Sto Sto Hai rotto Con le vario bombe No Le vario bombe Resceranno sempre Nel mio cuore Nel mio culo Sì Eh stai mi ha scaduto No No Dove cazzo sei Madonna ti sforro Sì No Sì Allora ragazzi E adesso Ma dove cazzo vai Senti Senti Mi sono scassato il pene Ma mi prendo il tank Basta Mi sono scassato il pene E prendimi E prendimi Prendimi Qua cosa ho accustato la sconfitta Chi Ooooo Perché il mio tank è volato in culo Oh no ho sbagliato l'atterraggio Sì Dove cazzo Dove sei? No sono caduto dentro il key Perché c'è il tank che balla Allora No mamma no no più cazzo Ok Adesso lo andrò a recuperare nel mio capo magico Ma cos'è che devi prendere? Così dai Quando morirà No Eh che coglione Sì ma I manieri sono rotti Non ti fanno il paracadute No Nel mio capo magico No Corri Corri No No Ehi No Sì 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 ragazzi Sì Non ci la posso rinforzare Ok Oh Che cazzo è successo Cos'è? Cosa è in bot? Che è successo? Per suo danno Ah ho capito che cos'è un bug È un bug Per i denti non so perché alcune volte tu muori E se spari nel punto dove sei morto prendi danno anche tu Un po' che le scone Non capisco perché Ma la vita è sì Aspè che devo prendere un'arma bella La pitella Allora vediamo se lo trovo Eccolo ragazzi Ok ci sono Dove sei? Brutto lei Dove sei? Dove sei? Ehi Cos'è quel meteorite lì in fondo? Ghiè c'è? Sono caduto in acqua E rientra Andiamo su giustizia No dai devo provare la mia Mio cavo magico Ma tu hai il microfono in Cina comunque No Ma se ce l'ho a due centimetri La cosa del mio culo E adesso ragazzi Porco Dio 10 E adesso ragazzi La macchina è di là Che cazzo sto facendo Porco Dio No basta Devo venire Devo venire Sulla macchina Ti devo venire Corri Corri Che cazzo faccio Cos'è quello? Perché non sai che si può volare con questa macchina? No Non mi ricordavo Non mi ricordavo Guarda dove cazzo vai Vai Oh si Oh si la macchina Guarda la macchina Adesso possiamo concludere il video No adesso mi devi combattere Perché il borro non ha tempo da bere Non basta sborra Vieni E non c'è l'occhio E vado a prendere Veloce Precoce Ah la devo fare precoce Sì Ok vado precoce Sì Sì Dio roccia Vai entro Dovete entrare Aspetta Non è entrare Aspetta Dove sei? Aspetta Devo fare lo screen del video Ok Sì ma mi dici dove sei? Ho creato la copertina La copertina del video Sarà un Una macchina Un video che calpessi Una mariotonda Dove sei un po' precoce? Dove sei un po' precoce? No Ah il campo Ah la po' Madora Ti vengo Ok Adesso possiamo concludere No Adesso Ma un altro piccolo round L'ultimo round Però lo farò da lontano Ti verrò come solamente Nonno Gino sa fare Ehi Lo vedi lo sbocco? Lo vedi lo sbocco? Non mi venire addosso No mi sboccavo e adesso no mi è capito lo sbocco addosso guarda in aria guarda in aria aspetta in aria possibile ti faccio vedere lo spettacolo e la collezione l'aco vado no e se con la scia di sbocco ci ho sboccato adesso il video può finire l'ultima parte lo facciamo in dark mode non perché devo andare non da in dark mode e già devo andare veloce ok la dark mode la facciamo un'altra volta e quindi ragazzi se il video vi è piaciuto lasciate un like iscrivetevi al canale condividete il video e direi che ci possiamo vedere ad un prossimo video ciao ragazzi ciao 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 Grazie a tutti